ciao a tutti benvenuti sul canale questo video inizierà praticamente iniziato 25 30 giorni fa quando ricevuto questo pacco da smart bugs cos'è smart bugs ve lo lascio link in descrizione e ovviamente anche poi vi taggerò ovunque a voi di smart bugs non avete idea di quello cos'è praticamente è un nuovo profilo instagram una nuova azienda che invia delle cose particolarissime che adesso vi faccio vedere smart bugs chi capisce un po d'inglese può immaginare sono felicissimo di farò oh mio dio oh mio dio sono felicissimo di vedere questa cosa e spero che anche voi potrete acquistare da smart bugs i vostri butterfly kit e bombix adesso vi faccio vedere di cosa si tratta sono emozionatissimo bombix della filo da torcere perché vediamo un po abbiamo dei vermi esatto sono dei vermi che diventeranno poi farfalle ragazzi e questa è la sorpresa stanno già sono vivi e stanno mangiando guardate di qui sono immobili perché hanno visto la luce dopo tanto tempo quindi dovrò sistemare il tutto e faremo questo esperimento insieme fino alla fine fin quando non diventeranno farfalle insomma e io ne sono troppo 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 felice perché poi andremo a liberare tutti quanti insieme c'è tutta una cosa da costruire questo è il kit che mandano a casa proprio perché poi diventeranno delle farfalle quindi dobbiamo aiutarli a farli crescere e a farli diventare farfalle questo è quello che va fatto ci sono tutte le varie c'è tutto il vario kit con le istruzioni ovviamente che mi sono prontamente cadute il butterfly kit vedremo quasi adesso questo poi va montato diventando una sorta di albero dove i nostri bruchi appunto andranno a diventare crisalidi cioè io sono scioccato e troppo felice di questa cosa mettiamoli qui che sono stanno dormendo e sono tutti un po stanchi hanno fatto un viaggio da vi dico subito l'azienda di dov'è da Ponzano Veneto ragazzi è un allevamento praticamente di bruchi qui abbiamo invece altri altri farfalle non so cosa oh my god guardateli che spettacolo e non vedo ora poi di fare il resto appunto non vedo ora che diventino farfalle per poterle poi liberare anche qui c'è il kit con le istruzioni la casettina da costruire per poi andarci a mettere appunto tutti i vari le varie crisali di quando saranno pronti ed è tutto spiegato in questo kit anche qui qui praticamente andranno messi tutti quanti in questo modo e poi andrà costruita questa casetta dove appunto ci andranno i bachi quando saranno pronti e trasformati per diventare farfalle oh mio dio che bellezza questa è una cosa nuovissima e spero che si diffonda tantissimo in Italia per ripopolare le farfalle ovunque adesso mi leggo un po le istruzioni e poi andiamo avanti con l'esperimento vi faccio vedere come monterò il tutto eeeh 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 blev eeeh 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 eeeeh eeeh Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.